sai poi la gente comincia a dirti fa sempre la stessa canzone no e questo è un tema anche interessante perché che vuol dire fa sempre la stessa canzone cioè vuol dire che tu senti qualcosa che se io sento un cantante molto riconoscibile per me quella cosa è un punto di forza di un cantante no e si dice di tanti cantanti senza fare nomi che fanno la stessa canzone da 20 30 anni poi vede quei cantanti fanno dei numeri impressionanti ancora oggi perché perché secondo me fare sempre la stessa canzone che vista quindi appunto con una critica vuol dire avere una grande riconoscibilità vuol dire che tu quando senti quella quella voce quel suono diceva questo è cantante x questo è cantante y che ha un valore per me è un valore cioè non voglio dire preferisco questo ai cantanti che magari fanno la canzone trap perché va la trap poi vanno all'indie perché va l'indie o poi vanno in rock perché va in rock all'indie o poi vanno in rock outro